Amiche e amici di Mediagol, buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con Sport Mediagol, il post partita, vi terremo compagnia per tutta la stagione con un ricchissimo post gara. Ieri l'esordio in campionato del Palermo contro il Latina, 2 a 0 il finale, una buona prestazione anche se ci sono state alcune sbavature difensive che stavano per compromettere il risultato su tutto un errore di Peretti che ha dato il via libera a Jefferson che ha poi trovato il palo, Pelagotti era battuto e qualche istante dopo anche Sanè ha impegnato Pelagotti che è riuscito a dire di no. Saluto in studio la mia compagna di viaggio Giulia Anello, buongiorno. Buongiorno a te Marco, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, che invito subito chiaramente a condividere il video della nostra diretta, lo trovate su tutti i nostri canali social, quindi Facebook, Twitch e Youtube, ma soprattutto a commentare perché io e Marco abbiamo tanti argomenti da trattare ma la vostra opinione è fondamentale e ci incuriosisce a sapere anche alla luce di questa prima giornata di campionato le vostre sensazioni, le vostre emozioni ma soprattutto le vostre aspettative. Assolutamente vi aspettiamo per interagire con noi, allora riavvolgiamo il nastro e a questo punto grazie alla nostra regia andiamo a rivedere quello che è accaduto nei 90 minuti di ieri sera allo stadio. Si torna in campo, stadi aperti e grandi aspettative per il Palermo che nella prima di campionato in Serie C, Ginolecì davanti a 6.000 spettatori incontri in casa in Latina guidato dall'ex Daniele Didonato. Parermi in campo con il 3-4-2-1 per Agotti in porta, difesa 3 con Peretti, Lancini e Doda, a centrocampo Almici, Luperini, Capitan De Rose con Giron, esterno-sinistro. Per l'attacco mister Filippi sceglie Brunori con dietro Floriano e Dalloio. Il Latina risponde con Alonzi tra i pali, Spinozzi, Di Livio, Carletti, De Santis, Marcucci, Teraschi, Tessiore, Mascia, Esposito e Nicolao. A disposizione Cardinale, Giorgini, Ricci, Sanè, Attagli, Pastore, Di Mino, Jefferson. Il primo a fondo del Palermo al nono minuto apertura con l'esterno resto di De Rose per Giron, Tiro Mancino, Floriano e Brunori non ci arrivano per un soffio. Diciassettesimo, Rosa pericolosi in avanti, Giron prova a girarsi, finisce giù, l'arbitro lascia correre, niente calcio di rigore. Ventiduesimo, il Latina non si lascia intimorire, ci prova Tessiore da fuori, Pelagotti la mette in corner. Al trentunesimo la svolta della partita, lancio lungo che innesca il contropiede del Palermo. Brunori prova il pallonetto ma viene buttato giù, rigore per il Palermo dopo l'atterramento di Brunori, espulso Marcucci e Latina in dieci uomini. Rivediamo la prodezza di Brunori, il brasiliano in prestito dalla Juventus. Sul dischetto va Roberto Floriano, 1-0, l'attaccante non sbaglia. Quarantatresimo, corner per il rosenero, scambio veloce dalla bandierina e tiro cross in aria. Alto sopra il portiere della tira, primo tempo che si chiude con il rosa avanti di un gol. Il secondo tempo comincia con il Palermo di nuovo in attacco, forte della superiorità numerica. Al quarantanovesimo Giron mette dentro un cross nell'aria avversaria Brunori e Doda. Sono in agguato ma la difesa della tira riesce a spazzare. Un minuto dopo incertezza della squadra ospita centrocampo e il rosa ne approfittano con Floriano che lancia in profondità occasione. Palermo con Brunori che salta il portiere ma viene anticipato in corner dal difensore. Il rosa vanno a mille trazione del Palermo neutralizzata dal portiere al cinquantesimo e poi sessantunesimo. Giron nuovo spazio a destra dall'Oio tira al volo e il portiere prima respinge corta e poi la toglie dei piedi di Fella. Sessantatresimo cross Giron, testa Brunori alto. Tre minuti dopo clamoroso errore di Peretti. Il difensore sbaglia il disimpegno. Jefferson si trova tu per tu con Pelagotti. Tiro palo. Si salvano così il rosa nero. Il Latina prende coraggio e al sessantasettesimo sfiora di nuovo il gol. Filippi cambia qualcosa dentro Soleri. Fuori l'ottimo Brunori. L'attaccante non perde tempo. Al settantesimo occasione d'oro. Cross di Dall'Oio e colpo di testa fuori. Gli ultimi minuti sono un assalto. Ottantunesimo Dall'Oio tira a gire. Il suo destro viene respinto da Alonzi. C'è aria di gol. Ottantottesimo. Botta di Almici dall'interno dell'aria e sfera a lato. Ma l'occasione giusta arriva cinque minuti dopo in pieno recupero quando il solito Giron intercetta un pallone che proietta Soleri in aria. Fallo sarà calcio di rigore. Lo stesso Soleri va dal dischetto. Gol di potenza alla destra del portiere. Dopo quasi cinque minuti di recupero l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Esordio da incorniciare per mister Filippi. Due a zero e primi tre punti che portano il padermo in cima alla classifica di quella che per i tifosi rosa-nero dovrà essere la stagione del riscatto e della promozione in Serie B. E questo era il film della partita con il doppio rigore. Il primo segnato da Floriano il secondo segnato da Soleri. Due rigori che hanno consegnato i primi tre punti della stagione a Filippi. Allora Giulia vediamo anche quello che è accaduto in questa prima giornata nel girone C di Serie C. Diamo un'occhiata proprio alle partite del primo turno con la classifica e poi uno sguardo anche al prossimo turno. Ecco la grafica di quella che è la classifica che attualmente vede il Monopoli, il Catanzaro e il Palermo in cima con tre punti. Messina, Paganese, Avellino, Campobasso, Fidelissiandria, Juvestabbia, Foggia, Monterrosi, Picerno, Taranto, Turis e Vibonese con un punto e poi Fanalino di Coda se così si può dire anche se stiamo ancora alla prima giornata di questa intensa stagione calcistica. Bari, Potenza, Virtus, Francaville, Latina e Catania con zero punti. Quindi è ancora presto per poter dare una linea definitiva di quello che vedremo ma sicuramente per il Palermo l'importante era cominciare bene. Questi tre punti fanno ben sperare per quella che sarà poi l'attuale stagione da cui le aspettative sia da parte della squadra che dei tifosi sono davvero alte. Vediamo se riusciamo a vedere anche il prossimo turno. chiedo alla regia eccolo qui perché la seconda giornata vedrà il derby anche se non si giocherà come sappiamo a Messina ma a Vibo Valencia. Sì, un derby importantissimo. Il Palermo sfiderà la CR Messina che è reduce sicuramente da una prestazione un po' deludente perché vinceva per una 4 ed è poi stato raggiunto dalla squadra avversaria. A seguire ci saranno Campobasso, Taranto, Catania, Fidelissiandria, Juve Stabia Vellino, Latina Paganese, Virtus Francavilla Vibonese, Bari Montero Setuscia, Picerno Catanzaro, Foggia Potenza e Turis Monopoli. E dovremmo avere in collegamento video Gregorio Luperini grazie anche all'ufficio stampa del Palermo. Gregorio ci senti? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi sento benissimo. Ieri una partita sicuramente non semplice perché l'esordio non è mai facile, nel primo tempo una buona prestazione e poi nella ripresa qualche sbavatura in difesa che stava per compromettere il risultato però poi alla fine sono arrivati i tre punti. Sì, è stata una bella emozione innanzitutto iniziare il campionato con i tifosi, è stato emozionante. Dopo un anno e mezzo, due anni, è stata veramente una bella emozione, ci tenevamo a fare bene e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Partire bene per noi era troppo fondamentale, ci siamo riusciti e siamo molto contenti. Le sensazioni in vista di questa stagione comunque sembrano positive, diciamo che l'ambiente è caldo. Più volte la società ha detto di non voler ripetere gli errori dello scorso anno che comunque sono errori di assestamento in una categoria nuova, un mercato comunque intelligente operato dalla società. Ti chiedo proprio le sensazioni nel vostro spogliatoio per questa stagione. Noi siamo coscienti della nostra forza, siamo molto uniti, siamo un gruppo forte e ci teniamo veramente a fare bene e a onorare la maglia, che è quello che siamo venuti qua a fare. Quindi sicuramente non vogliamo ripetere gli errori che abbiamo commesso lo scorso anno e noi ce la mettiamo tutta. Poi alla fine tireremo le righe. Alla luce di questa prima giornata, anche se è ancora presto per poter chiaramente delineare quelli che sono gli scenari futuri, ma avete già avuto modo nel corso del precampionato di andare un po' ad osservare le qualità e i pregi delle squadre avversarie e quale pensi possano essere le maggiori seguitrici del Palermo per la tanto ambita promozione in Serie B? Sicuramente Bari, Avellino, Catanzaro sono squadre forti, sono alla pari di noi, quindi noi ci metteremo tutta. Sappiamo che c'è da fare un'impresa per competere con tutte queste, stare al passo di tutte, però noi siamo lì con loro. Ecco Gregorio, la sensazione, guardando dall'esterno le partite, è che questo gruppo sia molto unito e lo sia anche perché il ritiro di San Gregorio Magno ha davvero compattato il gruppo e poi quest'anno c'è stata la possibilità rispetto allo scorso anno di disputare le amichevoli, Monopoli, Potenza e Salernitana, prima di giocare il 14 agosto la partitella in famiglia, amichevoli che certamente hanno contribuito a automatizzare i meccanismi anche se ancora presto. Quindi ti chiedo sicuramente, è stato condotto un buon ritiro da parte della società, da parte della squadra, l'allenatore ha potuto effettuare una serie di considerazioni e di preparazioni che naturalmente l'anno scorso senza le amichevoli non è stato possibile fare. Sì, noi abbiamo fatto un ottimo ritiro, abbiamo fatto un'ottima preparazione e stiamo molto bene, fisicamente si sta bene, abbiamo avuto diverse assenze ma stiamo tutti bene, quindi siamo molto contenti di questo, ci alleniamo veramente bene. Poi per quanto riguarda l'anno scorso, come è stato fatto l'anno scorso e tutto, non ci pensiamo più, pensiamo solo a quest'anno e basta, ritornare sull'anno scorso serve a poco. Ecco, volevo anche chiederti, diciamo, in zona gol tu l'anno scorso sei stato abbastanza prolifico, col Picerno sei andato a segno, ieri non sei riuscito, ti chiedo, in zona gol vuoi chiaramente promettere qualcosa ai tifosi, anche se sui numeri non si parla mai, però ecco i tifosi ti aspettavo tanto da te perché hai dimostrato, soprattutto in terzo tempo, di essere davvero un asso. Ma io non faccio promesse in niente, però da quando gioco i gol li ho sempre fatti, se provano la squadra poi vengono anche i miei gol, quindi io do tutto, poi i gol, se gioco con serenità e tranquillità, li ho sempre fatti, quindi sicuramente arriveranno anche quelli. Senti Gregorio, a proposito dello scorso anno e di quelle che sono state, se così possiamo anche simpaticamente chiamarle, le tue prodezze, a livello complessivo qual è la valutazione che dai alla stagione tua personale dello scorso campionato? Ma io sicuramente trago un'ottima prestazione come tutta l'annata, alla fine l'abbiamo rimediata e è andata bene, però io non voglio più parlare dell'anno scorso, ovviamente, ora c'è quest'anno, siamo partiti, siamo partiti bene, e mi do a pensare solo a quest'anno. Prima di lasciarti e di ringraziarti per la tua disponibilità, ti chiedo sabato derby contro il Messina, il primo derby della stagione, si giocherà a Vibo Valencia per l'indisponibilità temporale al Franco Scoglio di Messina, chiaramente si ragiona partita dopo partita, però volevo chiederti se insomma il mister vi aveva già detto qualcosa in preparazione di questa partita. Ma no, non l'abbiamo ancora preparata, l'abbiamo preparata la partita con Latina, l'abbiamo preparata bene e ora da oggi pomeriggio prepareremo la partita con Messina. Sicuramente è una partita, per noi tutte le partite sono finali, quindi noi vogliamo vincere. Vi ringraziamo, grazie Gregorio Luperini, grazie allo figlio stampa del Palermo per averci concesso la possibilità di intervistare. Gregorio, in bocca al lupo chiaramente per la stagione. Grazie, grazie, buona giornata. Ciao a tutti. Grazie, grazie a Gregorio Luperini che è intervenuto in questa prima puntata di Sportmedia con il post partita. e allora io andrei dopo aver sentito live in esclusiva Luperini a sentire le parole di una grande bandiera, lo possiamo dire, ex Palermo che ieri è stato accolto benissimo. Stiamo parlando dell'allenatore della Tina, Daniele Di Donato, uno striscione fuori dallo stadio per lui e poi il presidente Mirri ha donato la maglia di quest'anno con il suo numero 8 allo stesso Di Donato. Le considerazioni nel post gara dell'allenatore della Tina. Una squadra che punta a vincere, quindi saremmo dovuti essere perfetti. Siamo partiti bene, abbiamo avuto quell'occasione con Tessiore all'inizio, rimpallata, poi stiamo controllando molto bene la partita. Alla fine c'è stato quell'errore di lettura, un errore tecnico che ha causato il gol più il rigore e più l'espulsione e lì è cambiata un po' la nostra partita. Nonostante tutto, il secondo tempo i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, abbiamo cercato di contenere per poi ripartire, abbiamo avuto quell'occasione clamorosa prima con Jefferson e poi con Sanè, con Jefferson soprattutto che ha preso il palo a tu per tu col portiere. Poi alla fine la squadra è calata come era prevedibile in dieci del primo tempo, ci alleniamo, siamo insieme da 15 giorni e l'ultimo secondo è subentrato il secondo rigore sempre su un errore tecnico nostro, però alla fine era la partita che dovevamo fare e mi dispiace perché alla fine su un paio di errori nostri hanno fatto con loro. Lui è stata un'emozione unica, specialmente poi alla fine quando il presidente mi ha consegnato la maglietta insieme ai tifosi, ho potuto gioiare insieme ai tifosi è stato un bel riconoscimento, è stato bello. Quali ti affetti per la tua squadra? Sicuramente è un campionato difficile, perché il campionato è molto difficile. Normale che sapevamo di affrontare una squadra forte, una squadra dove non dovevi sbagliare nulla. Arrivavamo da due settimane di lavoro, sapevamo delle difficoltà, però sono contento perché alla fine la prestazione c'è stata e abbiamo, secondo me, disputato una buona gara. Peccato per quei due errori di valutazione che ci hanno precluso appunto il risultato. Però sapevamo che non potremmo sbagliare nulla con questo Palermo ben organizzato, che gioca bene, l'abbiamo visto anche col Picerno. Però ripartiamo dalla prestazione, non dal risultato ma dalla prestazione sicuramente. Miglioreremo anche la condizione atletica, perché solo giocando possiamo entrare in condizione noi. Di Donato che chiaramente non può essere soddisfatto, però con grande onestà il Latina ha fatto un buon match. L'inferiorità numerica in certe circostanze non si era nemmeno avvertita. Di Donato che era veramente disperato dopo l'errore clamoroso di Jefferson. L'abbiamo visto affranto in panchina perché l'occasione, l'abbiamo vista negli highlights, in apertura è stata veramente clamorosa. Errore incredibile di Peretti e poi Jefferson da due passi ha angolato troppo il tiro e ha colpito il palo. Giulia, vediamo un po' i commenti da parte della community di Mediagol. Devo dire che le prime sensazioni sono tutte abbastanza positive. Il commento ricorrente sicuramente è quello che fa i complimenti un po' alla prestazione offerta dalla squadra di Filippi. Nonostante qualche strafalcione, vado nello specifico a leggere il messaggio di Giuseppe, che scrive buona la prima, andiamo avanti così, forza Palermo. Matteo scrive, era solo la prima ma abbiamo già dimostrato di avere le carte in regola per poter spaccare in questa stagione. Un commento che si accoda a quello di Matteo e anche quello di Antonio, che scrive sono soddisfatto di questa prima prestazione, sicuramente mi sarei aspettato qualcosa di più da Soleri, ma era la prima, avremo modo di vederlo e di poterlo valutare ancora meglio. Ultimo commento di questo primo giro dedicato ai tifosi è quello di Giuseppe, che si complimenta con Daniele Didonato per il gesto fatto al termine della partita, quello di portare proprio la maglia omaggiata dal presidente Dario Mirri sotto le curve. È un esempio di sportività, ma soprattutto un esempio che dimostri ancora quanto forte sia il legame tra Didonato e l'intera città di Palermo. Assolutamente, un legame forte, un legame pienamente ricambiato, perché per tutti Dido è stata una bandiera e davvero l'affetto per l'ex capitano, perché ricordiamo che Didonato è stato anche capitano del Palermo, è assolutamente ricambiato. A proposito di tifosi, possiamo anche riavvolgere il nastro e ascoltare le impressioni dei tifosi dopo Palermo Latina. L'importante è iniziare bene. Cosa le è piaciuto di più, cosa le è piaciuto di meno? Molto sulle fasce, il gioco sulle fasce è molto rapido, Giron una sicurezza e poi una grande fase offensiva con il primo tempo Brunori e il secondo tempo Soleri. Buonasera a tutti, telespettatori di Mediagol. Siamo usciti dalla partita del Palermo 2-0, due rigori, il Palermo ha meritato tanto, però ci ha fatto perdere otto polmoni e quattro cuori. I retropassaggi al portiere sono stati brutti da subire, soprattutto in Curva Sud, però l'importante è che Palagotti ci ha salvato. Diciamo che comunque il Palermo ha cercato di ravvivare un pochettino la partita. Sì, forse eravamo un po' troppo scarico, allora noi ci facevano un po' salire la adrenalina. Allora, dalla Curva Sud non è stato il massimo a livello divisivo, però è stata una bella partita, è stata una bellissima partita, vinta di rigore, ma l'anno scorso perdevamo le prime, quindi ci bastava anche l'1-0 e mi sarei accontentato. Queste le impressioni dei tifosi all'interno di fuori dello stadio Renzo Barbera, purtroppo da oggi, lo ricordiamo, la Sicilia torna dopo mesi di bianco in zona gialla, questo significa intanto che l'andamento epidemiologico non sta dando risposte positive e che comunque allo stadio potranno entrare solamente 2.500 tifosi. Ieri 6.091 titoli emessi per la partita contro il Latina, è stato, Giulia, molto bello vedere di Barbera, chiaramente non era pieno però con i tifosi. È stato davvero bellissimo, anche perché dopo quasi due anni di totale assenza dagli spalti del pubblico, tornare alla prima di campionato con il pubblico che da sempre a Palermo è stato il dodicesimo uomo in campo, ha dato quella marcia in più, quello sprint in più e ha potuto anche confermare il nostro pensiero Gregorio Luperini poc'anzi. Quindi anche il fatto di dover adesso ulteriormente dimezzare la presenza del pubblico allo stadio potrebbe essere una pecca ma non deve perché quest'anno non ci saranno scuse, non ci saranno attenuanti. L'importante è che il tifoso palermitano che, ripeto, ha delle aspettative alte per questa stagione anche a distanza e in tutti i modi possibili e immaginabili riesca comunque a stare vicino alla squadra, a far sentire quello che appunto è la vicinanza che poi è importantissima nella fase iniziale che determina a mio avviso anche l'andamento futuro della stagione. Ricordiamo anche Giulia gli abbonamenti sold out, 2500 tessere e quindi 2500 abbonati per questa stagione. La speranza naturalmente è che il colore della nostra regione e in generale di tutta Italia possa tornare bianco perché comunque rimanere bianco perché il resto d'Italia perché comunque è una situazione che va avanti ormai da un anno e mezzo abbondante quindi è chiaro ed evidente che si spera in una soluzione proficua. Tra l'altro, hai detto bene, un anno e mezzo perché praticamente l'ultima partita di campionato era datata a primo marzo 2020, Palermo 9 a 4 a 0 con tripletta di Floriano e gol di Felici. Già il pubblico aveva riassaporato il gusto del Barbera con il Picerno appunto il 21 agosto e poi è arrivato ieri il primo match di campionato. A proposito del campionato, ha fatto una grande partita ieri sera a Brunoni, si è sacrificato l'attaccante ex Entella, ex Juve Under 23, non ha trovato il gol ma è stato fondamentale perché riesce a svariare lungo tutto il fronte offensivo, lavora molto bene per la squadra, si è procurato il calcio di rigora e soprattutto l'espulsione che ha comunque dato il là alla supremazia territoriale in campo del Palermo che non si è vista in maniera totale però chiaramente poi alla lunga si è fatta sentire. Matteo Brunoni. Sì, sono molto soddisfatto per il risultato perché era troppo importante partire con i tre punti perché ci aiuta a lavorare bene in settimana, non sono preoccupato per il gol perché arriverà in maniera naturale, l'importante oggi era vincere e portare i primi punti a casa. Vincere aiuta a vincere, quindi c'è entusiasmo e quando vinci durante la settimana poi ti alleni bene, provi anche qualcosa magari in più, quindi sicuramente sono arrivato e ho trovato uno spogliatoio con dei valori, con gente che ha molta determinazione, che ha voglia di fare qualcosa di importante con questa maglia, quindi c'è da lavorare perché è solo la prima, però abbiamo tutti la mentalità per raggiungere qualcosa di grande, quindi bisogna continuare a lavorare. Queste le parole di Brunoni. Giulia, quest'anno praticamente ci sono due giocatori per ruolo. Il mercato, ricordiamo, termina domani, anche sul sito, in dirittura d'arrivo, abbiamo visto su media.it tutte le notizie di mercato, crescenze praticamente fatte e quindi sicuramente il mercato può dare ancora delle risposte confortanti, ci sono degli esuberi da piazzare, ma questo non è più un mistero. Dicevo, due giocatori praticamente per ruolo, questo dovrebbe garantire comunque un rendimento alto da parte di tutta la squadra. Chiaramente questa è la marcia in più di cui parlavamo anche ad inizio trasmissione, perché l'anno scorso poi delle difficoltà evidenti sono venute fuori a causa di infortuni, Covid, Boscaia prima e Filippi dopo si trovavano sempre in emergenza. Sicuramente il fatto di dover cambiare di settimana in settimana non ha aiutato né l'allenatore, nella squadra a compattarsi, a trovare quella continuità che tanto è stata definita come un oggetto misterioso. Questa abbondanza, tra virgolette, di cui si può fortunatamente parlare in questa stagione, fa ben sperare sia a livello tattico, sia a livello tecnico, ma anche e soprattutto a livello di spogliatoio, perché è chiaro che avere una continuità e una tranquillità possano anche aiutare l'allenatore a fare le sue valutazioni nel corso della settimana, ma ai calciatori a compattarsi proprio come squadra, a ritrovarsi e a capire in fondo quali sono le qualità e i punti forti su cui poter puntare il gioco di parole. Sì, lo abbiamo sottolineato più volte. La società quest'anno ha operato un mercato sicuramente intelligente, perché ha alternative in ogni ruolo e poi ci sono alcuni calciatori che sono dei veri jolly, come per esempio Dall'Oglio, che anche ieri ha fatto una buona gara, Dall'Oglio che conosceva Filippi sin dai tempi di Brescia, quando era vice di Boscaglia, Dall'Oglio un jolly perché praticamente ti può giocare in tutte le zone del centrocampo. L'ex Catania ieri stava per realizzare un gol straordinario, perché con uno stop a seguire si è smarcato, poi ha fintato il destro e successivamente non è riuscito ad angolare al meglio la stessa conclusione, però Dall'Oglio che sicuramente, come tanti altri, potrà dare un contributo importante alla causa rosa-nero. Se non ci sono altre domande, altre considerazioni, noi siamo quasi in chiusura, ti do la parola per gli ultimi aggiornamenti. Vi leggo solo quelli che sono i risultati del sondaggio, che come al termine di ogni partita lanciamo su Mediagol per definire solitamente il migliore e il peggiore, ma dato che è stata la prima partita e che fondamentalmente, a parte l'errore difensivo che poteva trasformarsi veramente in qualcosa di grave, ma per fortuna così non è stato di peretti, la squadra ha reso bene, ci siamo soffermati sul migliore e i tre più votati dai tifosi sono stati Giron, con l'84% di votanti, Del Rose col 71% e Brunori, come dicevamo appunto poc'anzi, con il 66% dei votanti. Quindi insomma, anche qui il fatto che sono ben tre i giocatori scelti dai tifosi come migliori in campo fa veramente ben sperare, perché se è vero che chi ben comincia è in metà dell'opera, possiamo dire che ieri il Palermo non ha assolutamente né deluso le aspettative della tifoseria, né tantomeno creato polemiche, dubbi o perplessità che possano macchiare questa stagione. Peraltro a proposito di Giron, prima di chiudere, sicuramente la concorrenza farà bene a Valente e viceversa, perché comunque Maxime Giron ha dimostrato in queste due prime uscite stagionali, sia contro il Picerno che contro il Latina ieri sera, davvero di essere in forma, sembrava quasi giocasse col Palermo da una vita, un terzino che oltre a dare un contributo importante in fase offensiva, riesce anche in fase difensiva a contenere parecchio i calciatori avversari. Io vi ricordo le due prossime partite del Palermo, così anche da casa hanno tutte le coordinate. Abbiamo già detto del derby contro il Messina in trasferta a Vivo Valencia per l'inagibilità temporanea del Franco Scoglio di Messina. Sabato c'è stata la variazione di orario, non più alle 20.30 ma alle 17.30 e poi ci sarà un'altra trasferta il sabato successivo a Taranto, sempre alle 17.30, quindi il Palermo tornerà al Barbera praticamente fra tre settimane. Io ringrazio Giulianello. Grazie a te, grazie a chi ci ha seguito, a chi è stato con noi, ci ha fatto compagnia in questa abbondante mezz'ora di trasmissione dedicata al posto partita. Ci rivediamo la settimana prossima, mi raccomando, continuate per tutti gli aggiornamenti a seguirci sul nostro portale mediagol.it. Noi siamo davvero in chiusura, da Marco Capone è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.